C'è un servizio urbano di mobilità sostenibile? Quindi questa è l'unica finalità, non è rivolto ai contribuenti perché non è una tassa ma è rivolto agli utenti, ai fruitori quindi dei parcheggi che possono anche decidere di non usufruirne e gli introiti verranno destinati sia per gestire il servizio ma anche per avviare il servizio di trasporto pubblico locale, quindi per comprare dei bus che serviranno a portare la mobilità finalmente nella nostra città che manca da tanti anni. Io penso che la politica debba pensare almeno da qua a dieci anni e debba disinteressarsi del consenso. Sappiamo benissimo che questa potrebbe essere una scelta impopolare, cioè quella di utilizzare le zone blu. Però devo anche pensare ai bambini, devo anche pensare ai cittadini del domani che hanno bisogno di avere fra cinque e dieci anni una bagheria diversa. Una bagheria dove il cittadino vada in giro con la bici tranquillamente e in sicurezza, dove i ragazzi vadano a scuola con gli scuolabus o che si possano spostare con i bus. Dove gli anziani possano avere un servizio di trasporto pubblico locale per spostarsi liberamente in città e soprattutto in una città dove si inquini meno. Quindi per fare questo abbiamo bisogno della collaborazione di tutti e della condivisione di una visione di questa città che deve essere ovviamente più smart. La mobilità è fondamentale. Chiedo a tutti uno sforzo da questo punto di vista e se ci riusciamo a una condivisione di questa visione da qua a dieci anni. Bagheria deve avere sicuramente un servizio di mobilità all'altezza della nostra città. Ce la possiamo fare perché non abbiamo grandi pendenze, è una città che è vivibile. Gli introiti andranno integralmente e interamente alla società. La società quindi pagherà i costi del servizio, la parte eccedente non tornerà al comune ma verrà investita sulla mobilità sostenibile. Quindi la società dovrà dare alla cittadinanza un servizio di trasporto pubblico locale e un servizio di mobilità dolce, quale per esempio il car sharing e il bike sharing. Oltre al fatto che dovrà occuparsi dei centri commerciali naturali e delle isole pedonali che verranno migliorate dal punto di vista del decoro. Quindi diciamo che in base al successo di questo nuovo servizio che sta per partire vedremo se riusciremo a dare questo nuovo servizio alla cittadinanza. Anche perché noi non vogliamo creare dei buchi di bilancio, quindi il comune non ci metterà nessun euro su questo servizio. Quindi ha detto semplicemente alla società prenditi queste zone, gestiscile con gli introiti, con il ricavato, dai un servizio in più alla cittadinanza. L'obiettivo è quello di tendere alla gratuità, quindi ai cittadini non verrà chiesto, quantomeno nella prima fase, di un esborso esoso e soprattutto non verrà chiesto ai cittadini di pagare per avere il trasporto pubblico locale. Perché l'obiettivo è quello di creare un servizio di trasporto pubblico locale gratuito. Quindi chi utilizza l'auto pagherà il trasporto pubblico locale a chi ne usufruirà. Una cosa pure importante che magari non abbiamo detto è che chi utilizza le zone blu avrà la possibilità entro 48 ore di evitare la multa e quindi di poter pagare una penalità e rientrare in quello che è il circuito virtuoso. Chi possiede un abbonamento oppure chi ha... No, se io per esempio usufruisco della zona blu per più tempo rispetto a quello che ho pagato ho la possibilità entro 48 ore di pagare soltanto una penalità e non una multa e quindi di pagare meno rispetto a quello che sarebbero i 21 euro, 24 euro della multa. Quindi di pagare semplicemente una penalità, questo perché vogliamo evitare che sia visto il servizio come una vessazione. È un servizio fondamentale se si vuole crescere nell'ambito economico-finanziario della gestione della mobilità. Non ci sono alternative, nel senso che le strisce blu, se vissute nell'ottica, diceva il sindaco Patrizio Cinque, come primo step del servizio di mobilità urbana, diventerà uno strumento immediatamente riscontrabile dei cittadini in termini di beneficio. Come diceva il sindaco, l'AMB è la vostra società e la società dei cittadini è una società in house, lo dice la stessa parola, a casa. Io e il Consiglio di amministrazione siamo lo strumento che si mette a disposizione affinché venga gestita una società con grande saggezza ed equilibrio e ottimizzare risultati e risposte alla cittadinanza in termini di servizi e di risposte assolute. Noi abbiamo già iniziato a percorrere in questi mesi alcune valutazioni operative cercando di capire quali potevano essere gli strumenti per migliorare i servizi. Chiaramente ancora non sono materialmente passati ma già c'è tanto lavoro dietro sia da parte dell'amministrazione che da parte del Consiglio di amministrazione. Per cui siamo abbastanza certi che attraverso tutta una serie di organizzazioni dei servizi che abbiamo studiato operativamente insieme all'amministrazione riusciremo sicuramente a migliorarli e renderli immediatamente visibili. Dopodiché noi siamo qui, siamo appena nati, ci stiamo strutturando e siamo sempre molto aperti a qualunque consiglio o correttivo o correttivo è sicuramente l'interlocuzione anche per quanto riguarda il riscontro del buono e del cattivo.